che tu potessi sentirmi ma se te con l'antenna da casa mi arrivavi proprio al limite del queremma e mi abbasso e viceversa come faccio a sentirmi a farmi sentire a meno che non c'era quell'ineretto del 300W ah ok apro oggi faccio il tenno più del toni è chiuso, apre il 3 vabbè allora fanno tutto a settembre insomma e per forza ma qua i giorni si stanno avvicinati ci sono rimasti un gioco di due quando è domenica si sposa mia figlia contro me chi? come contro me chi? si sposa, si sposa domenica pomeriggio eh ho capito ecco l'altro stai con il vestitino con sbatti i chiari a te no, quello è lui ci si sposa così eh lui, lui si c'è il picchietto bello, vanno un po' di foto eh sì, poi pure le vestitino si è scusato così eh è bello, è bello comunque quando vi ho a queste fotografie siamo curiosi siamo curiosi oi comunque qui oggi ho provato a chiamarlo c'era pure l'eccio stamattina era montante qua di un luce la mattina che aveva in me abbiamo chiamato ma Alberto già stava già stava a montagna dice facevo chiamata ma non ne spoglia nessuno poi noi abbiamo fatto chiamata ma non c'era il foglio non c'era il foglio adesso stava già stava a prendere un stanucio lui era a me che già stava a montagna non è che mi partia adesso io e lui poi adesso siamo arrivati poi abbiamo abbiamo passato in sì io volevo una polizia adesso l'ha fatto una polizia l'ha fatto una polizia l'ha fatto una polizia l'ha fatto una polizia lassa è una polizia di una polizia e io ** sto leggendo i messaggi che arrivano dai monti dai monti e appruzzesi eh e Daniela che ogni tanto si diverte tutto qua tutto qua e va beh insomma Ettore Questo collegamento non è andato a buon fine, beh vabbè, sarà per la prossima, sarà per la prossima, vai Ettore.